Gilda Ambrosio Ama far parlare di sé, ma senza esagerare. A volte odia essere al centro dell'attenzione, ma è consapevole del suo lavoro, e del bisogno dell'esposizione mediatica. Gilda Ambrosio. E il ballerino di amici, la ragazza ha smentito i pettegolezzi, spiegando che è nata solamente una forte amicizia. Siamo amici confida in una intervista rilasciata a Grazia Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, la persona, che però non è il tuo fidanzato. Stare sola è ancora la paura più grande. Le donne pensano che con un uomo non lo saranno, ma non è necessariamente così. Tutte le donne hanno bisogno di avere qualcuno accanto, tanto quanto ne hanno bisogno gli uomini, ha raccontato qualche giorno fa la Ambrosio. Continua a leggere dopo la foto, stando a quanto pubblicato oggi dal settimanale Chi, però, le cose potrebbe stare diversamente. Secondo il giornale di Alfonso Signorini, infatti, Gilda Ambrosio avrebbe scaricato Stefano De Martino che, a sua volta, avrebbe però già trovato un'altra donna con cui consolarsi. Poche sere fa, c'è stata una cena in gran segreto nella cucina milanese di Stefano De Martino, dove c'erano come ospiti Cristina Buccino, e la cantante Elodie Di Patrizzi è stato scritto oggi nella rubriche Chicche di Dichi. Continua a leggere dopo la foto, la cantante ed ex allieva di Amici, tuttavia, è felicemente fidanzata mentre Cristina Buccino sarebbe single. E i loro incontri sarebbero sempre più frequenti? Pare dunque che tra la showgiri, che vanta relazioni con Cristiano Ronaldo e l'attore di Oliuncolin Farrell, ci sia del tè nero. Un dettaglio importante quest'ultimo perché, stando a quanto sostenuto dal giornale, gli incontri tra De Martino e la Buccino, che non si seguono sui social per non destare sospetti, si stanno intensificando negli ultimi tempi. Continua a leggere dopo la foto, è proprio Cristina Buccino la fidanzata segreta di Stefano De Martino, o c'è solo una tenera amicizia? Solo il tempo e Stefano ci daranno le risposte. Cristina Buccino è la splendida modella calabrese che ha anche partecipato all'Isola dei Famosi qualche anno fa. Tra i suoi ex ci sono Cristiano Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne, il calciatore appena acquistato dalla Juventus Cristiano Ronaldo, Claudio D'Alessio, figlio del cantante Gigi, l'attore Colin Farrell, anche se i due non sono mai stati paparazzati insieme, e il procuratore sportivo Gabriele Giuffrida. . . . .